A tagliare il nastro sabato scorso sono stati bambini, coloro per i quali il centro socioeducativo Centoceani è stato pensato. Da oggi, lunedì 19 marzo e per tutti i giorni, dalle ore 15.30 alle 18.30, la struttura Sita in Via Verdi di Praia Mare ospiterà attività di supporto scolastico, laboratori di musicoterapia, teatrali e manipolativi, corsi di inglese e di psicomotricità. All'inaugurazione, l'assessore Laura De Presbiteris, promotrice dell'iniziativa Antonino De Lorenzo e il sindaco Antonio Praticò che, fin dall'inizio, con il supporto dell'intera amministrazione comunale, ha dato il suo ok a questo progetto di cui, ha detto, Praia Mare aveva assolutamente bisogno. Oltre ai corsi, lo spazio vuole diventare anche un luogo di sperimentazione, pronto a ospitare qualsiasi iniziativa che coinvolga giovani e genitori. Chi vuole presentare un progetto, ha spiegato la De Presbiteris, può farlo. Basta che sia attinente con la mission del centro, ossia mirato all'educazione e in grado di garantire attività extrascolastiche innovative per i giovani. 106 anni, infatti, si rivolge principalmente ai ragazzi dai 6 ai 16 anni, una fascia di età particolare durante la quale si formano gli uomini e le donne di domani. L'obiettivo rimane quello di favorire la crescita dei giovani, senza dimenticare il sostegno verso quegli studenti che hanno difficoltà negli studi. Certamente il progetto è solo all'inizio, il meglio, ci ha spiegato la De Presbiteris, deve ancora arrivare. Abbiamo in mente anche altre attività, grazie al supporto di molte persone, che si sono proposte spontaneamente per dare una mano alla crescita di questa struttura. Già questo è un buon inizio. Già questo è un buon inizio.